Equilibrio di genere Studi scientifici confermano Le donne nelle aziende aumentano creatività e produttività Mentre in Italia solo il 6% delle donne raggiunge una posizione di vertice Per questo nel 2011 è stata approvata la legge 120 che stabilisce un riequilibrio di genere Un concreto aiuto al paese per essere più dinamico, creativo e produttivo Perché con donne e uomini insieme l'Italia ha un futuro migliore Grazie